Sul campo della corazzata RG Ticino, il Varese soffre a lungo prima di trovare la reazione di una grande squadra a guantare un match che sembrava ormai perso. 2-2 e punto d'oro per i biancorossi. L'RG parte subito forte, Aperi sfiora la traversa e Molinari salva su Buongiorno. I gol però nell'aria e arriva puntuale prima dell'intervallo. Cassano salva come può su Chimenez e Buongiorno deve solo appoggiare il rete. Nella ripresa parte meglio il Varese, ma Poesi è letale in contropiede e Buongiorno firma la doppietta. Cotta rivoluziona la squadra e i cambi hanno subito effetto. Pisan se ne va sulla destra e serve a palazzolo il cioccolatino che da inizio la rimonta. Aronica si divora il 3-1 e Varese non perdona. Harris era miracoloso su benacquista, ma non può nulla sul tapin di Furlan al 93esimo che vale il definitivo 2-2.